Scontro tra un'auto e un camper sulla strada che da Borgagne conduce a Torre Sant'Andrea Marina di Melendugno. Per ragioni ancora in fase di accertamento Simone Surdo, ventenne di Martano, è morto nel terribile incidente. Al volante della sua Fiat Punto è andato a sbattere contro il camper poco prima di mezzogiorno. Sul posto sono giunti i vigili urbani di Melendugno che hanno regolarizzato il traffico ed effettuato i rilievi. Saranno loro a ricostruire la dinamica dei fatti. La zona è stata raggiunta da un'ambulanza del 118 e dei vigili del fuoco. L'intervento dei caschi rossi si è reso necessario per estrarre il corpo del giovane rimasto incastrato tra le lamiere. Sotto shock l'uomo alla guida del camper che non ha riportato ferite gravi nell'impatto ma è stato trasportato in ambulanza con codice giallo al pronto soccorso per accertamenti.